E' Daniele Tonti, 35 anni, chef strategy officer di OMA, storica azienda di Foligno che opera nel settore dell'aereo spazio e della difesa, il nuovo presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria per il triennio 2023-2026. A eleggerlo è stata l'assemblea che si è riunita in sessione privata all'hotel Resort Le Colombare di Foligno, l'ultima guidata dalla presidente uscente Cinzia Tardioli che, giunta al termine del suo mandato, ha ripercorso le tappe fondamentali della sua presidenza. In occasione dell'assemblea è stato eletto anche il consiglio direttivo che sarà composto da 13 under 40 in rappresentanza di tutto il territorio regionale. L'assemblea è stata aperta dal presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Brizziarelli, mentre a concludere i lavori è stato il presidente nazionale dei giovani di Confindustria, Riccardo Di Stefano. Stiamo vivendo un momento di cambiamento e in questo ambito è necessario che il gruppo Giovani sia il volano della mutazione, sia quel soggetto che riesca a portare nuove idee, nuove competenze, nuovo know-how per lo sviluppo del nostro territorio. Ritengo che in questo momento di transizione verso una regione, un territorio che sia favorevole per innovazione e lo sviluppo sia necessario che il gruppo Giovani si concentri su cinque parole chiave. Queste parole sono la prima ovviamente crescita, quindi crescita non solo delle imprese ma anche delle competenze e delle risorse umane, degli asset che abbiamo sul territorio. Attraverso la formazione, che è la seconda parola, quindi andare a trasferire competenze e know-how guardando anche le best practice a livello internazionale. Altro tema importante, queste competenze che vanno sviluppate devono trasferirsi in innovazione, investimenti, ricerca e sviluppo, innovazione che permettono alle imprese di essere competitiva a livello internazionale. Anche investendo in sviluppo sostenibile, è necessario proprio in questo momento utilizzare lo sviluppo e la sostenibilità come driver per poter essere competitivi a livello mondiale. Il tutto utilizzando la quinta parola chiave che è condivisione. Siamo una piccola regione, abbiamo necessità di concentrare gli effort su linee guida ben precise e identificare una via unica per andare ad estrarre quelle sinergie necessarie per essere competitivi a livello internazionale.